Siamo in compagnia di coach Massimo Darin dopo questa prima partita del torneo internazionale di Torino. In fase di presentazione si diceva che questa sarebbe stata una prova di valutazione anche di questi nuovi ragazzi che oggi si sono affacciati per la prima volta sul palcoscenico internazionale. Come sono andati? Devo dire che l'approccio è stato positivo a parte il risultato che un po' ce l'aspettevamo. In quanto ho visto comunque grande entusiasmo, grande concentrazione e applicazione anche delle cose che abbiamo chiesto a livello di staff tecnico. Quindi quando vedi queste cose sei comunque soddisfatto. Siamo in un primo step, in un primo passaggio. Abbiamo un torneo abbastanza lungo. Ci mancano dei giocatori importanti, questo lo sappiamo. Però devo dire che tutti sono applicati bene. Il gap ci stava. Abbiamo avuto anche occasioni da gol che era importante. Sicuramente qualcosa da limare, magari qualche gol in più preso o qualche gol in più da fare c'era. Però sono soddisfatto perché vedo che c'è un buon gruppo di nuovo. Quindi questo è positivo. Avete riaffrontato la Corea che evoca ricordi positivi e negativi perché comunque è stato il miglior risultato della nazionale alle Paralimpiadi. Però anche la delusione ovviamente per aver sfiorato solo la medaglia di bronzo. Quindi appena sei andato sul ghiaccio quali sono state le sensazioni? Ma sì, eravamo un po' noi una squadra diversa. Quindi sicuramente la sensazione è che vedere quella maglia un po' ti... Anche perché ho visto poi bene la partita quando te la guardi da calmo e non da caldo e perdere una partita con un gol così oppure alcune occasioni che abbiamo avuto noi non sfruttate. Proprio l'occhio e lo sport è proprio in un filo. Vai sopra o vai sotto di quella linea proprio per particolari e come lì ha inciso tanto. No, devo dire che sai quando cominci a giocare tutto ti passa e guardi agli obiettivi che hai sempre nuovi. Non ti puoi fermare troppo a guardare il passato. Devo dire che oggi sono abbastanza anche fiducioso per il futuro di questi ragazzi e anche della nostra nazionale. Per cui sono convinto anche che al campionato del mondo con qualcuno anche di quelli che abbiamo visto oggi che potrà sicuramente venire, più altri che mancano. Con queste squadre qui sono sicuro che ce la giocheremo. Grazie mille coach, in bocca al lupo per le prossime partite. Crepi, viva il lupo e vediamo. Ok, ciao. Grazie. Grazie.